E' sempre i bambini quando mi chiedono come fare il sindaco, la politica è anche fare il sindaco, è un gioco di squadra, un gioco di squadra che abbiamo fatto in questi anni e che mi ha consentito di non sentirmi mai, davvero mai solo. Molta della squadra è qui oggi, c'è Cristian che è colui in quale mi ha coperti sempre le spalle, una specie di assicurazione sia sulla vita che sulla casa che sull'altro. Grazie a tutti.